Ah, appena fuori il mondo mi ritrovai, in un mondo del cielo che vale la pena. Non è un destino, ma quello che è fuori, che mi chiede di vivere, sapere la soluzione, 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 la soluz Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.